Cultura e ricerca, due degli ambiti cui l'ex sindaco di Pescara Carlo Pace ha dato impulso durante i suoi mandati da amministratore. I risultati dell'operato da sindaco dal 1994 al 2003 sono ancora visibili e proprio per lasciare un ulteriore segno dell'importanza dei progetti realizzati, l'amministrazione comunale di Pescara ha inteso intitolare a lui l'ICRANET, ovvero il Centro Internazionale per l'Astrofisica Relativistica, che ha sede in Piazza della Repubblica, nello stabile che un tempo era il blocco centrale della vecchia stazione. Commossi la moglie Rossana, i figli Laura e Bruno, il nipote Carlo, che ha scoperto la targa su cui è stato inciso il nome del compianto nonno, volle fortemente che quello stabile fosse tramutato in un centro di ricerca e di studio Carlo Pace e lo affidò all'amico professore Remo Ruffini. Aveva una grande visione, le parole del primo cittadino Carlo Masci, grandi competenze e onestà. Voleva proiettare Pescara nella conoscenza del mondo e delle stelle che voleva guardare al futuro. Col primo cittadino anche il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il presidente del Consiglio comunale Marcello Antonelli, il deputato Nazario Pagano, una vasta rappresentanza di assessori e consiglieri comunali, e ancora il prorettore dell'Università d'Annunzio, Tonio Di Battista, le autorità civili e militari ed esponenti del mondo accademico e della cultura. All'intitolazione ha partecipato anche una rappresentanza degli studenti dell'Istituto Acerbo.